salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi non sarà uno dei soliti video nel senso che ne parlerò di droni ne recensirò droni ne farò un tutorial tecnologico su qualcosa ne parlerò di un prodotto tecnologico di qualche cosa che siete abituati a vedere su questo canale ma questa è solo una presentazione a un video che avevo registrato l'anno scorso nel periodo di natale quando ero andato a gardaland quindi un video che avevo fatto per far vedere come gardaland si trasforma e diventa gardaland magic winter ovviamente la versione del video che andate a vedere è la versione 2017 cioè quella che avevo registrato l'anno scorso ma che poi non avevo mai pubblicato adesso ho deciso di pubblicarla appunto per far vedere diciamo un tour di quello che è gardaland nelle feste di natale quindi come si trasforma gardaland nelle feste di natale quindi questo sarà un video della versione 2017 perché l'avevo registrato l'anno scorso poi non avevo mai pubblicato però secondo me è interessante e voglio condividerlo con voi perché magari qualcuno ci vuole andare con la famiglia o meno e vuole avere un'idea di com'è gardaland in questo periodo di come si trasforma per l'arrivo del natale quindi un tour di gardaland magic winter 2017 è quello che state per vedere quindi questo è solo un tour di com'è tutto gardaland nel periodo magic winter quindi ragazzi non mi resta che dirvi buona visione ragazzi non mi resta che dirvi buona visione grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.